La retrocessione è venuta sicuramente oggi, mi dispiace come è andata un po' tutta l'annata, sai poi quando le cose vanno male a casa propria dispiace doppiamente, dispiace sempre perché comunque uno quando è professionista gioca a calcio dispiace dappertutto ma a casa propria fa ancora più male, però purtroppo sono cose che capitano, il calcio è questo, impareremo molto penso come società, come giocatori da questa annata, dobbiamo farlo perché in queste annate si cresce più di quando si vince secondo me, quindi bisogna prendere comunque il lato positivo se ne troviamo uno, però oggi è una giornata amara ma domani deve essere un giorno nuovo, un'alba nuova per il Sansepolcro, speriamo di ripartire al più presto e tornare in questa categoria che ci appartiene da tanti anni, averla persa ci fa male però bisogna ripartire per riconquistarla. Infatti quasi un quarto di secolo di continuo in serie D, quindi l'augurio da parte nostra è quella che possiate ritrovarla già dall'anno prossimo, venendo al match hai provato e ci sei anche riuscito oggi a prendere per mano i tuoi compagni, ti abbiamo visto giocare tutto campo, partire dalla tua zona, dalla tua zolla preferita sulla fascia però ti sei mosso un po' tutto campo oggi? Ma c'era bisogno anche perché avevamo fuori i nostri due attaccanti centrali over che erano tutti influenzati quindi c'era bisogno ecco di dare una mano davanti perché abbiamo tanti ragazzi giovani quindi però poi diciamo che era il mio intento da inizio anno cercare di trascinare questi ragazzi perché abbiamo veramente ragazzi giovani comunque a parte come è andata a finire hanno secondo me delle buone prospettive spero per loro che ma anche per tutti per me che anche a mia età se non si finisce mai di imparare spero che questa annata serva per tutti ecco il Rimini lo sapevamo aveva vinto il campionato sicuramente le motivazioni erano più dalla nostra però ecco complimenti a voi e ai ragazzi perché hanno creato veramente io ho sentito adesso il ragazzo parlare quando uno che gioca poco così parla così di un gruppo si capisce perché poi si vincono i campionati poi lì dentro conosco Scotti, Adrian, Ambrosini, Brighi, Valeriani sono tutti ragazzi eccezionali e quando hai degli uomini così è difficile non centrare l'obiettivo gli faccio i complimenti e spero che il meglio per loro e per il Rimini l'ultima battuta ti sei salutato cosa mi siete detti con Adrian con Adrian e adesso ho detto che mi ha detto che corro ancora però come me la metteva precisa lui la palla ancora hanno trovati pochi quindi beh Adrian è fuori classe è inutile si vede che ha già dato un'impronta nel suo ruolo io spero che ora il Rimini ha fatto il piccolo passettino e tornare ai professionisti penso con gente come lui la crescita sia esponenziale anche nel prossimo campionato